Benvenuti nel parco regionale dei Colli Euganei. Oggi vi presentiamo una proprietà davvero unica con una vista mozzafiato sul Monte Venda. Iniziamo. Si tratta di una villa unifamiliare ristrutturata completamente alla fine degli anni 90 e poi successivamente è stato rifatto il tetto e l'intonaco con l'aggiunta dei pannelli fotovoltaici nel 2018. L'immobile insiste su un lotto di ben 4000 metri quadri, si sviluppa su due livelli, quindi qua ci sarà il reparto della zona giorno, ma prima di entrare abbiamo un ampio portico dove eventualmente potersi mettere fuori con tavolo, sedie e comunque godersi le giornate appunto nei Colli Euganei. Entriamo. Come dicevamo, reparto della zona giorno con cucina in muratura e visto che è fatta in muratura rimane. In realtà resterebbero tutti gli arredi e tutti gli accessori presenti all'interno della casa, all'eccezione di un tavolo da ping pong, quindi quello se lo portano via. Dalla parte opposta, come vedete, ci sta benissimo tavolo e sedie. Finiture moderne, nel senso che comunque era stata ristrutturata fino agli anni 90, ma mantiene un fascino rustico che è tipico insomma dei Colli Euganei, quindi non poteva andare diversamente. Mentre qui hanno concentrato la parte del salotto, quindi con spazio per i divani, in questo caso ce ne sono più di uno, e soprattutto caminetto a legna che può riscaldare le vostre serate invernali. Aria condizionata installata qua su, abbiamo due split, uno qua e uno sopra per il reparto della zona notte. Seramenti sono tutti in legno con il vetro camera, ci sono i barconi esterni sempre in legno, le porte interne sono in legno bianche e laddove sono riusciti a mettere anche le porte scorregoli comunque insomma le hanno messe, quindi questo sarebbe un antibagno con accesso appunto al bagno. Dietro la porta c'è anche la caldaia e l'attacco per la lavatrice, adesso c'è un po' di casino ma portate pazienza. Vediamo il reparto della zona notte. Vi potete vedere da una parte e dall'altra, volevo farlo vedere. Corridoio con l'accesso ai vari ambienti, qui abbiamo ben quattro camere da letto, quattro camere da letto e un secondo bagno. Partiamo dalla camera principale che è questa, con letto matrimoniale, noterete che non c'è l'armadio ma in realtà qui dentro hanno fatto un armadio su misura che ovviamente rimane. Il bello di questo piano è la travatura a vista, bagno che va a servire le stanze sempre con la sua porta scorrevole, camera media e dietro la porta c'è anche l'armadio, seconda camera media e infine cameretta singola oppure studio come hanno fatto loro. Sempre dal corridoio si accede poi ad un terrazzo che in realtà ospita anche tutta l'impiantistica e soprattutto per quanto riguarda appunto il fotovoltaico che è stato installato come dicevamo nel 2018 e abbiamo 3,6 kilowatt. Qua sotto vi rimane anche una casetta per gli attrezzi piccolina ma insomma loro ci hanno messo gli attrezzi appunto per il giardino, secondo split dell'aria condizionata e poi fuori vi faccio vedere ci sono due ripostili non apro perché c'è un po' di casino all'interno comunque uno con una porta normale e il secondo invece è un portone un po' più ampio e lì dentro c'è anche l'autoclave perché insomma per i cogli auganei diciamo che per far funzionare insomma con la giusta pressione l'acqua serve anche l'autoclave. Poi per quanto riguarda l'acqua piovana in realtà viene raccolta all'interno del pozzo ed è stato anche collegato con la fontanella che c'è qui e l'acqua piovana viene utilizzata in questo caso per annaffiare le piante e il giardino. Una cosa particolare che non sapevo nemmeno io ma insomma ho imparato visto che il nostro primo incarico in esclusiva sui cogli auganei è che ogni casa deve avere appunto un cancelletto come questo che deve rimanere accessibile per i cacciatori quindi se devono recuperare magari non so il cane piuttosto che quello che hanno cacciato sostanzialmente devono poter accedere alla proprietà. Con la macchina si scende da qui e in fondo lì c'è il cancello caraio motorizzato ha anche un secondo cancello lì in fondo là però quello è un po' più piccolino mentre con la macchina insomma si entra da qua e questo è un garage che è stato costruito qualche anno fa accatastrato proprio come garage e ovviamente insomma rimane così come rimane anche tutto quello che troverete all'interno e c'è una bellissima sorpresa perché vedete c'è tantissimo giardino da gestire e per poterlo gestire sicuramente vi servono i giusti attrezzi e noi ve li diamo assieme alla casa. Eccolo qua c'è tutto quello che serve trattorino tutto 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 mentre in fondo lì quel bussolotto bianco è una macchina per il compostaggio guardate che vista ragazzi riassumendo ci troviamo nel parco regionale dei Cogli Eugani siamo in località Faedo che fa parte del comune di Cinto Euganeo vi proponiamo in vendita una villa unifamiliare che è sempre stata utilizzata come seconda casa composta da ampia zona giorno quattro camere e doppi servizi e poi un bellissimo portico esterno parco privato di ben 4000 metri quadri con un ampio garage di circa 24 25 metri quadri che rimane completo di tutto quello che avete visto all'interno stesso discorso vale anche per la casa e quindi rimane completamente arredata possibilità di costruire proprio qua dove ci troviamo in questo momento una piscina quindi questa è una cosa particolare perché il parco regionale dei Cogli Eugani è abbastanza rigido ma in questo caso visto che il vicino sopra si è fatto alla piscina abbiamo anche la possibilità di dirvi che qua la potete tranquillamente realizzare quindi tutto quello che abbiamo visto insieme oggi viene proposto in vendita in esclusiva MS immobili a soli 310 mila euro per maggiori informazioni su questa fantastica proprietà non esitate a contattarci